Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha scritto ai vertici regionali e provinciali del PD per confermare il commissario Aldo Cennamo alla guida del Partito Democratico, Irpino. In seguito alla sentenza del Tribunale di Avellino del 7 maggio 2019, spiega Zingaretti che ha annullato il congresso provinciale della federazione celebrato nel 2018 e di conseguenza ha reso nulli tutti gli organismi eletti. In data 24 luglio 2019 ha nominato, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, Aldo Cennamo commissario provinciale del PD di Avellino con le funzioni proprie di segretario e con il compito di avviare l'iter congressuale per l'elezione del nuovo segretario e dei nuovi organismi provinciali. Concluso positivamente il tesseramento 2019, l'intervenuta emergenza nazionale per il Covid-19 non ha consentito il raggiungimento di tale traguardo nei tempi programmati. Comunico pertanto di aver rinnovato l'incarico ad Aldo Cennamo affinché nella fase successiva alle imminenti elezioni regionali avvi l'iter congressuale per l'elezione del nuovo segretario e dopo la decisione del segretario nazionale del PD sono arrivate le parole del commissario Aldo Cennamo che nelle prossime settimane sarà chiamato a decisioni e scelte non certamente facili, visti tanti nomi che sono stati proposti soprattutto in quota maschile per una candidatura alle prossime elezioni regionali. Desidero esprimere, ha detto Cennamo, la mia più sincera gratitudine al segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti per l'apprezzamento del lavoro sin qui svolto e la rinnovata fiducia per il prosieguo del mio incarico. Confermo il mio convinto impegno di proseguire e concludere il lavoro avviato al fine di garantire con il massimo del rigore e della trasparenza lo svolgimento dei lavori congressuali e l'elezione dei nuovi organismi dirigenti del PD Irpino.